Vincenzo Dopo gli avvicinati Io non lo so A punto Ma proviamo a vincere Aspetta che passo io, poi ci vogliamo stappando, dai. Passo io e li tiro proprio più bene, altrimenti non sapete chi c'è davanti. E scendete, che cosa fa? Da qua non credo. Il pinto è forte di sede, perciò chi è? Noa, se si sepola così, si se si 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 ma ma no, non si si si. A punto di vista mai, non so, la pezzata, si si sciega proprio. Come si 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 sa? No, se si scivola così. Come si 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 sa, Ghiaccia non si sono molto bene, ci sono stati problemi del percorso problemi non nostri non nostri sicuramente di tutti i jeep sono stati quattro, uno dietro l'altro che hanno dato problemi speriamo noi di non fare brutta figura yeah, let's go over appena t'appoggi appena t'appoggi appena t'appoggi appena t'appoggi vai 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 aspettiamo ehi mi hanno appena comunicato penso che ho lasciato un pezzo di paraurti dopo la fiancata ho lasciato anche un pezzo di paraurti vediamo cosa abbiamo lasciato allora giù vediamo adesso il pezzo di protesto si si vediamo 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 E' un po' che vuole? Gesù eccom'è,como si passa? oh my god puttana di sera ma non ce la fate non ce la fate aspetta di via a destra vado aspetta di via a destra a*****are? a***** quindi devo sterzare a destra allora attenzione dietro vai un pochino allora 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 vai fermo 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 se lato sceno e come signora? cosa fai? alla canchiera? non è il re? il culo va! va avanti e qua o quello già si si è già in capo cava tu non è che? ah ah va a passare in capo ligno si vai dietro vai 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 ancora amicurato se unia un corpo di gas è via no, è chiaro perché si deve essere in capo la città Ribbana a destra la città è via a questo come un sogno è un re c'è la miseria allora la stessa cosa fa va bene, allora mi metto avanti di qua mi metto avanti di qua, no? si, si, prendi va bene così ma ora c'è il caienda salgo che fare ora? vai a stare tutta a destra tutto sono che vedi l'arrivo non mi piace che vedi salite salite ma era specificato, ti piace? certo che è bello faccio mostrato a una pesca avevo gianne e paspetto, nel senso che ha mancato per me anche hai ragione eeeh, un orto è al centro, sono speciale ti scudo il calcio fai quantino e fai uscire? allora salgo mi mantengo sulla destra e poi salgo sali che ce ne ho fatto perfettissimo perfettissimo, grazie allora so il cu fa passare una mezzo papà oh mi ascolta si e quindi a come vai va bene va bene va bene è scema ma quella è più arda in questa vita è più arda di qua piccio a che punto siamo qua? 24 24 24 siamo a fare i 600 metri 24 a destra 24 la di qua quindi aspetta qua mi dici 24 a destra è vera quella che vi avete fatto ora iniziamo qua siamo 25 25 a destra per 200 metri e poi asserisce guarda vai seguiti pure in un altro vai guarda guarda è una gela ma ci può fare una chiamata a tu guarda ci dici che p***a può essere tu ci dici oh io non ne perdo quella lì non ha floppiato l'energia perché vedete come come la dimensione è buona guarda guarda guardate le direi guarda una partella guarda la scelta guarda la spira puoi cerca la bombetta stessa guarda ci succede lì dici lasciata miiesto dici è brutato è brutato Grazie per la visione